L'Assemblea dei Soci di Soaco, la società che gestisce l'aeroporto di Comiso, ha approvato il bilancio consuntivo del 2017, che si è chiuso con un passivo di oltre 2 milioni di euro. L'Assemblea ha poi rinviato al 28 agosto il punto riguardante le valutazioni e le eventuali determinazioni sulla bozza della bando di gara e procedura aperta per l'affitto temporaneo dell'azienda aeroportuale, in altre parole la gestione privata dello scalo. Abbiamo preso atto della bozza che ci è stata presentata, ha dichiarato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, e avendo la necessità di valutarla adeguatamente insieme al mio staff, ho chiesto un rinvio del punto. Il comune ha un'enorme responsabilità patrimoniale in quanto proprietario dell'aeroporto e intende agire nel pieno rispetto delle norme e con l'obiettivo dell'interesse del territorio. Qualche ore prima dell'Assemblea, il CDA di Soacco ha prodotto una lettera con la quale chiedeva formalmente al comune, in quanto proprietario, l'autorizzazione per l'affitto del ramo dell'azienda. Il bando che sarà predisposto, aggiunto il sindaco, dovrà soddisfare sia l'esigenza dell'associo privato Interstac, sia quella del comune di Comiso, che si fa carico delle attesi di tutto il sud-est siciliano, ma dovrà soprattutto muoversi nell'alveo del più assoluto rispetto delle norme. Faremo tutti i passi necessari e il 28 agosto potremo varare uno bando che possa consentire all'aeroporto di continuare a vivere.